allo a tutti raga benvenuti nel mio nuovo video sono i vostri lecocchi siamo qua con raven 2 e andiamo a comandare mi diceva fabio rovazzi rovaz rovaz rova e andiamo a comandare si scusate però io vado di fretta si prendo in pressito la limousine qui non so se la riporterò indietro in terra però faccio si vaga ci sono le sorprese bisogna andare al palazzo bisogna andare a casa una specie di villa che devo andare in villa a fare qualcosa che mi ricordano che cosa ma si dai intanto sono sempre in missione quindi mi salvo sempre ormai è la mia abitudine andare in contromano e ormai è un vizio il mio andare sempre in contromano e la pola non c'è e la pola non c'è la pola non c'è non c'è la pola non mai strano sono arrivato ok con la villa ok vediamo cosa succede non so se c'è qualcosa di sospetto o qualcosa c'è tra una limousine vuota su come un luogo qui ok non ho capito non sono stato scoperto cosa non ho capito ma sta qui non è stato scoperto sganato come si è sganato quindi devo scattare senza fare incidenti ovviamente non devo fare incidenti veramente povera limousine c'è una bella macchina così com'è finisce una sfascia carrozza cioè è già pronto per la sfascia carrozza non ho fatto andare a casa nel rifugio però ci sono i brasiliani che guidano la calcia c'è proprio qui non riesco a guidare questa macchina è un po' pesante non è veloce non è veloce non è veloce non scappare a tutti i costi ce la devo fare non è veloce 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 non c'è un brasiliano dietro come stile costa ma mi lascia neanche trello se i brasiliani sono pericolosi o che altro non è veloce perché guarda la mia macchina è tutta danneggiata è molto scassata mi basto un niente il pesce è tutto ho seminato ce l'ho fatta fatica se vi è piaciuto questo episodio lasciate like mi piace il link è la descrizione dei miei social iscrivetevi al mio canale ci vediamo alla prossima ciao